A fila le armi il Partito Democratico in vista del prossimo Consiglio Comunale dell'8 aprile. Gli esponenti DEM presenteranno una mozione contenente delle proposte per lo sviluppo e la tutela del commercio spezzino. Il commercio spezzino vive un momento di forte crisi che in realtà va avanti da molto in parte per ragioni sovraordinate rispetto a quelle locali, quindi l'attuale modello di sviluppo, il proliferare dell'e-commerce, anche una terziarizzazione molto spinta dell'economia regionale, provinciale e comunale, però anche perché questa amministrazione ha messo in campo delle scelte volute o sopravvalutazioni che hanno inciso molto sulle politiche del commercio. Penso appunto alle politiche che hanno riguardato l'espansione smisurata dei De Orra, danno di fatto del commercio al dettaglio, penso alla messa a terra dell'ordinanza sull'Euro 4 che ha danneggiato il commercio cittadino per come è stata attuata, ovviamente non per il divieto in sé, come per la produzione delle navette. Penso appunto a questa teoria secondo cui il mercato e il commercio deve autoregolamentarsi senza una regia degli enti locali. Noi riteniamo che sia profondamente sbagliato, abbiamo ritenuto che sia importante non soltanto utilizzare gli strumenti di pianificazione dal piano del commercio al PUC, ma anche fare proposte per favorire ad esempio un pagamento ridotto per l'IMU, per le attività inerenti all'artigianato, per utilizzare gli studi di settore che già sono avanzati sul tema e comunque strumenti che richiamino un'attenzione dell'amministrazione su un tema su cui non solo c'è la necessità di impegnarsi, di impegnare il proprio tempo, ma anche di restituire alla città una visione della rete commerciale. Pensiamo che occorrerebbe mettere in campo delle politiche di incentivi che vadano a sostenere il commercio tradizionale che sta subendo purtroppo progressivamente una contrazione da alcuni anni. Secondo i consiglieri del Partito Democratico il turismo sempre più in crescita sul nostro territorio non può e non deve fagocitare le altre attività commerciali. Ci possono essere degli equilibri e degli strumenti che l'amministrazione può introdurre al fine di tutelare delle categorie commerciali e del commercio a dettaglio che oggi soffre e sta pagando con chiusure di negozi storici e pezzi di storia della spezia che si cancellano. Noi proponiamo all'amministrazione di introdurre un piano del commercio, che è uno strumento scientifico finalizzato a garantire questi equilibri, e anche un piano di massima occupabilità per evitare che la proliferazione di bar e ristoranti sia fatta, non vada a danno, di altri esercizi commerciali come appunto i negozi e il commercio a dettaglio.